Se n'è andato all'età di 96 anni il senatore Luigi Panigazzi, Gigino per gli amici, e inoltre po' tanti, tantissimi erano gli amici di Gigino. Persona colta, carattere risoluto mamite, Gigino aveva sempre un sorriso, una parola di conforto, un consiglio, un suggerimento amichevole per tutti, grandi e piccini, persone importanti oppure di umili appartenenze. Il senatore Luigi Panigazzi tanto ha fatto per la gente dell'oltrepo. Chi non ricorda il suo impegno in sinergia lui socialista con i senatori Giovanni Ezzaretti, democristiano, e Luigi Merigi, comunista? Ma certo, erano altri tempi, allora le ideologie erano il servizio esclusivo del popolo. Noi vogliamo ricordare Gigino, e così lo vogliamo riproporre, nelle nostre non interviste, ma chiacchierate. Senatore, il castello di Oramala nei secoli è stato un testimone. Sì, certamente. Il castello di Oramala ha rappresentato per tanti secoli, partiamo dal mille circa, ha rappresentato il fulcro della civiltà del nostro territorio. Inizialmente era ovviamente soltanto un'organizzazione armata a delle armi rudimentali di allora per fare le guerriglie, per fare le conquiste del particolare. Divenne in seguito corte d'amore con i più famosi trovatori scesi dalla Francia, dalla Provenza, che hanno decantato con le loro rime l'amore delle domigelle molto belle, la selvaggia da Oramala e la sorella Maria, per cantare la loro bellezza e per conquistarle. Hanno chiuso poi il loro ciclo di Oramala perché passarono gli anni e divenne abbastanza sgradevole salire e hanno trasferito la loro dimora a Varsi e a Godiasco, dove rimasero fino al circa al 1700. Dopodiché la famiglia si divisa in mille rivoli e ognuno di questi sceglie un'altra sede allontana dal nostro territorio. Val di Nizza, Oramala, Val di Nizza, non solo Oramala, non il castello, ma il borgo medioevale di Oramala, comprensibile anche della Val di Nizza, era entrato a far parte dei borghi d'Italia circa 4 o 5 anni fa. Se non che per questioni informali e per una certa credine intercorso fra il sindaco di Val di Nizza e il responsabile regionale di questi borghi, per le loro questioni personali, non hanno il decreto e la bandiera mi venne consegnata personalmente a me ad Oramala. Se non che improvvisamente abbiamo avuto il Comune, è stato notificato il Comune, il sopralluogo di una nuova commissione, la quale ha deciso di togliere questo marchio, motivandolo in questo modo indegno e subdolo, che Oramala, il borgo di Oramala, non aveva un posto di ristorazione. Perché questa amarezza e questo mio disgusto? Perché Oramala è diventata non solo per il Comune di Nizza, ma addirittura per tutta la Valle Staffora, l'alta e la bassa la Valle Staffora, il centro di richiamo sia per quanto riguarda la cultura sia per quanto riguarda invece tutti gli altri aspetti.